Gavino, Ganao, esposizione a tempio di che cosa? Ho messo qualche opera della mia ultima ricerca, sono dei nuovi lavori a colori rispetto alla mia solita tipologia creativa che era il bianco e nero. Ti trovi meglio col bianco e nero o col colore? No, più che altro mi stavo annoiando, allora ho avuto voglia di sperimentare qualcosa di nuovo e mi sono messo a studiare il colore in maniera più seria rispetto al passato. I tuoi timi sono sempre la strada, la televisione, il contemporaneo? Sì, però ho abbandonato lo star system, prima lavoravo sempre sullo star system, sulle persone note, sulla fama, sul cinema. Invece adesso con una definizione che non mi piace però che aiuta a capire è sulle persone comuni, cioè su noi stessi. Anche se prendendo le immagini dai social network, dai siti di condivisione fotografica come Flickr, dove tutti esibiscono il loro privato in realtà. E' questo che mi interessa. Quindi l'ordinary people? Assolutamente.